E' iniziata il 20 febbraio scorso, tra non poche polemiche, la raccolta differenziata nella frazione marinaria di Scoglitti, dopo una preparazione lunga settimane. I residenti della località balneare, già all'inizio dell'anno, hanno ricevuto il kit da tenere nelle case per smaltire in modo corretto i propri rifiuti. In realtà le difficoltà incontrate nella gestione della differenziata sono state parecchie. In primis dei cittadini stessi, che non hanno recepito in pieno la corretta modalità per smaltire i rifiuti. Nonostante il materiale informativo fornito dal comune di Vittoria con la spiegazione delle categorie corrette e dei giorni di ritiro, e poi le difficoltà riscontrate per raggiungere in maniera capillare tutte le zone della frazione balneare. Nel corso delle operazioni di raccolta dei rifiuti differenziati, la polizia locale di Vittoria è eseguito un controllo capillare nel territorio, pattugliando il centro urbano e le aree extraurbane. Con l'inizio della raccolta differenziata a Scoglitti, ha spiegato l'assessore alla polizia locale Daniele Scrofani, abbiamo incrementato la presenza dei nostri agenti a supporto dei cittadini. Stiamo parlando in piena sinergia con l'assessorato all'ecologia, ha concluso il comandante Cosimo Costa, per coadiuvare e supportare la cittadinanza. Abbiamo individuato due micro discariche formate in una zona extraurbana, e già in questi giorni abbiamo eseguito svariati appostamenti al fine di individuare e sanzionare eventuali comportamenti scorretti. Ma i consiglieri di opposizione del Partito Democratico evidenziano nel frattempo alcune grave mancanze nella raccolta differenze da Scoglitti. Anthony Incorvaia, esponente del PD, segnala che l'azienda di igiene urbana non svolgerebbe il servizio con puntualità. Nelle zone periferiche, in particolare in Contrada Anguilla, secondo quanto sostenuto da Incorvaia, la raccolta della differenziata non viene effettuata come si dovrebbe. A tal proposito, Incorvaia propone all'amministrazione comunale di installare le isole ecologiche nei quartieri periferici, per evitare che le periferie stesse si trasformino in delle pattumiere. Intanto, l'ASCOM di Vittoria chiede un incontro con l'assessore alla tutela ambientale per adeguare il nuovo sistema di raccolta anche alle esigenze concrete di ristoranti, pubblici esercizi e attività artigiane.